Stante la mia età non più verdissima, io ho vissuto tre anniversari mozzartiani. Il primo nel 1956, il secondo nel 1991 e l'attuale. E devo dire, nonostante gli sciocchi, i quali dicono ah ma questi anniversari, celebrare Mozart, ma Mozart si celebra sempre e quindi sono anniversari inutili, è meglio celebrare, salieri si fa per dire, ci sono più cose da dire, così si ragiona, è vero. E invece devo dire che molte, molte, molte cose sono cambiate.